Boom di passaporti, più del 13% emessi nell'ultimo anno e così la Questura è corsa ai ripari ed ha annunciato oggi la nuova modalità di accesso all'ufficio per le domande. Dall'11 giugno sarà necessaria la prenotazione online per accedere all'ufficio passaporti. L'appuntamento si prenderà attraverso una piattaforma digitale. Se la pratica necessita di una procedura d'urgenza sarà comunque possibile, presentando documentazione che attesti l'effettiva urgenza, presentarsi agli sportelli. L'orario di apertura è dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12, giovedì dalle 15 alle 16. Per le urgenze, sportelli disponibili dalle 8.30 alle 9, sempre dal lunedì al venerdì.